Si avvicina la partenza del Giro di Lombardia da Como dopo quattro edizioni che hanno visto il capologo lariano come sede di arrivo, sarà Bergamo ad ospitare il traguardo della 115esima edizione del Lombardia, l'ultima classica monumento della stagione che partirà invece dalla città lariana. La classica delle foglie morte è in programma sabato 9 ottobre e chiude la stagione del grande ciclismo internazionale. Soprattutto il significato di ripresa nel momento in cui dopo questa pandemia, questo che ci ha veramente distrutto, la mascherina eccetera, sicuramente poter ospitare la partenza, poter avere il giorno prima i corridori per la punzonatura, poter avere le ammiraglie colorate in giro per la città eccetera potrebbe essere già un segnale. I corridori inizieranno sfilando per il centro storico della città in via Vittorio Emanuele, via Cantù e via Giovio con l'uscita spettacolare da Portatorre su via Milano. Si salirà poi dalla Napoleona verso Camerlata al termine di via Paoli, si taglierà per via Clemente XIII e poi nella zona di Senna dove è previsto il cosiddetto chilometro zero, il via effettivo dei concorrenti alle ore 10.34. Nella giornata di venerdì scatterà il piano che prevede le limitazioni al traffico in vista del giro. Venerdì pomeriggio cominceremo a istituire il diveto di sosta che andrà a interessare l'intera zona dello stadio Sinigaglia, quindi grosso modo coincidendo con una normale partita di calcio. In più ci sarà il parcheggio Maggiolini e alcune macchine verranno messe poi in Piazza Verdi, ma lì è zona traffico limitato, quindi non ci saranno riduzioni di parcheggi. Noi ipotizziamo dalla mezz'ora ai tre quarti d'ora di chiusura reale. La polizia locale metterà sulla strada 38 agenti e l'invita ai cittadini resta lo stesso, evitare di raggiungere la convallo se necessario spostarsi con mezzi alternativi all'auto per evitare disagi alla circolazione.